Il consigliere Giannino Romaniello del gruppo misto interviene sulla questione trasporti che, come lui sottolinea, è passata in secondo piano durante gli ultimi lavori consigliari rispetto alla legge sul recepimento della direttiva europea del 2003 sugli orari di lavoro con riferimento al settore della sanità. De richiamare l'attenzione su quella che lui definisce una questione di rimente per il futuro sviluppo della regione, la stessa garanzia per i lucani di avere servizi alla pari di tutti gli altri cittadini italiani, Romaniello ribadisce la necessità di un'approfondita discussione in regione sull'adeguamento del piano regionale dei trasporti, rendere operativa la pista Mattei di Pisticci, potenziare il collegamento con l'aeroporto di Bari e auspicare il rilancio di Ponte Cagnano, consapevoli che quest'ultimo può avvenire solo dentro una strategia di decongestionamento di quello di Napoli, sottolinea il consigliere, e cosa utile e necessaria. Tutto ciò può accadere solo se l'aeroportualità è inserita in un disegno più complessivo di integrazione sinergica di tutto il sistema della mobilità. Per Romaniello la Basilicata, con il nuovo ciclo di programmazione dei fondi comunitari, è chiamata a scegliere, fuori da vecchie logiche e localistiche, decidendo in modo consapevole che solo individuando poche ma significative opere da realizzare può uscire dall'isolamento.